Assessore Brocchi, allora com'è questa storia che volete costituirvi come comune di Montesilvano, parte civile in eventuali procedimenti contro gli sfruttatori delle prostitute? Allora, Montesilvano soffre di questo problema annoso, naturalmente chi si trova a transitare soprattutto una zona rivierasca in tutte le stagioni assiste a questo spettacolo poco edificante. Vi è un problema serio di immagine, oltre che di ordine pubblico. Abbiamo intenzione di partecipare ai processi penali che dovessero essere intrapresi nei confronti degli sfruttatori di queste povere persone. Questa nuova amministrazione cosa vuol fare per cercare di debellare questo fenomeno? Beh, intanto io credo che le forze dell'ordine debbano continuare a incrementare l'attività di prevenzione e repressione incalzando questi signori, ma anche parlo della Polizia Municipale, perché solo rendendo loro il territorio ostile, impossibile, si può sperare in un'attenuazione del fenomeno. Qualche tempo fa a Montesilvano l'ex sindaco di Mattia, parlando di prostituzione, aveva pensato a dei box dell'amore. Voi non siete di questo avviso probabilmente. Ma più che altro siamo un po' più realisti, abbiamo i piedi per terra. Allora, i sogni appartengono a una sfera onirica che personalmente non frequento e quindi io partirei dal concreto. Ci sono degli strumenti giuridici, se è possibile vorremmo attivarli, ovviamente con la possibilità che ci dovesse essere data dalla magistratura. L'assessore è anche avvocato nella vita di tutti i giorni. Insomma, in Italia c'è una giurisprudenza un po' particolare, una certa zona grigia per quanto riguarda la prostituzione. Se uno si fa un mezzo bicchiere in più di vino e si mette al volante di un'auto, rischia e rischia anche tanto. Direi giustamente. Per la prostituzione invece la legislazione è un po' più elastica. Sì, beh, la politica del pendolo, pugno di ferro e guanto di velluto è tipicamente italica. Proprio a livello di politica legislativa si potrebbe pensare a qualcosa che impedisca l'esercizio della prostituzione per strada, per esempio. Proprio l'esempio dell'utilizzo di bevande alcoliche, magari con parametri di poco superiori a quelli consentiti, può provocare delle conseguenze gravi per chi viola determinate regole, mentre la prostituzione si può esercitare liberamente per strada e non succede nulla. Caro legislatore, svegliati!